Arial. Per chi ama divertirsi a volentino, ogni giorno. Risultati professionali ad un prezzo contenuto. Le soluzioni tecniche di alto livello rendono Arial sensibile e versatile per ogni esigenza di pesca. Sensitive tips in fibra di vetro per avvertire anche le tocche dei pesci più diffidenti. Placca porta mulinello Caxin. Anelli in Seek Anti-Tangle. Tele regolabile a 2.75, 3.20 e 3.70 metri. In aggiunta alle vette in dotazione, è possibile, acquistandole separatamente, averne delle ulteriori di altre grammature per rendere la canna ancora più personalizzabile e performante per far fronte alle più svariate esigenze di pesca. Arial è nata per farti divertire ogni volta che ti confronti con la tua passione più autentica, la pesca. I grandi campioni Colmich ti consigliano Arial.